È chiaro che la retrocessione è sempre dolorosa, però deve essere vissuta come un'opportunità a mio avviso per ripartire da basi credibili. Penso che questa è una squadra da rinnovare soprattutto nella parte in cui ci stanno giocatori anziani ormai usurati sia fisicamente che mentalmente che ambientalmente. La cosa importante è comunque, considerando allo Stato il girone meridionale, sia una squadra che abbia fisicità, una squadra che abbia sangue fresco, muscoli freschi, perché questo è un campionato dove la corsa, il contrasto fisico, la battaglia dominicale e all'ordine del Giosmo. Bisogna quindi saper scegliere giocatori adatti alla categoria e soprattutto al girone. Io conosco Auteri che è stato il mio allenatore nella primavera dell'Atletico Catania. Può essere l'uomo giusto, al di là che poi è imprescindibile l'organico. Devo dire che Auteri è stato per molti anni un vincente della categoria. Quest'anno a Bari mi ha deluso, mi ha deluso soprattutto nella costruzione della squadra. Il Bari era una squadra inguardabile. Un fatto è certo, non si può più improvvisare come è stato fatto nelle ultime due stagioni. Quello che mi raccomando, mi auguro quest'anno a Pescara ci sia personalità, personalità del direttore sportivo che si sappia rapportare con autorevolezza con l'allenatore, che abbia un certo carisma anche nei confronti del Presidente. Perché se si bisogna rifondare, bisogna rifondare con competenza, mestiere, professionalità. Altrimenti non si va da nessuna parte, punte da capo come a prima. E poi bisogna in tutti i modi liberarsi di tutte queste catene dei procuratori. Perché i procuratori possono essere il male del Pescara. E non bisogna prendere 6-7 giocatori dallo stesso procuratore. Altrimenti diventi il proprietario della squadra. Bisogna sapere anche selezionare sotto questo aspetto. Quindi diciamo così, la sintesi serve all'attribuzione di competenze senza ingerenze. Mettiamola in questo modo. È sicuro, anche perché la squadra percepisce che chi comanda, chi parla, sa o non sa di calcio. E rispetta o non rispetta l'interlocutore. E quando io andavo negli spogliatori a parlare, i giocatori mi ascoltavano. Non c'era quello che si faceva i capelli o l'altro che si allacciava le scarpe mentre io parlavo. Stavano lì ad ascoltarmi. Perché apprezzavano, secondo me, le argomentazioni che io portavo avanti. E quindi ci stava un'unione di intenti. Dipende anche dall'autorevolezza. Che insomma non è che si compra al mercato. L'esperienza. L'esperienza, è chiaro. Pescara è pescara. Non è che poi può essere piazza prove. Piazza per lanciare dirigente e quant'altro. Lì puoi lanciare il giovane giocatore in campo. Ma nella regia, dove si comanda, ci vuole molta competenza, autorevolezza e soprattutto carisma.